Vi siete mai trovati nelle situazioni di dover far studiare vostro figlio con dislessia e DSA e di non riuscire a fargli memorizzare i contenuti scolastici come storia, geografia e delle altre discipline. Bene, è successo anche a noi nell'arco degli ultimi otto anni, in cui abbiamo osservato ogni giorno di ogni anno difficoltà nell'applicare i metodi studio, nell'utilizzare gli strumenti compensativi, nelle strategie educative e motivazionali. Dunque abbiamo realizzato un corso online su come studiare con un bambino con dislessia e DSA adatto a genitori e operatori che seguono bambini di scuola primaria e scuola media e ha cinque caratteristiche per voi. Uno, si focalizza in modo pratico, reale e concreto sul metodo di studio per dislessia. Andremo a vedere gli strumenti per tutti e quattro i DSA e le tecniche educative e motivazionali da adottare. Due, lo potrete seguire tranquillamente e comodamente da casa. Tre, le lezioni saranno disponibili online fino alla fine del corso. Quattro, avrete a disposizione attestato e materiali che verremo durante il corso. Cinque, potrete porre delle domande durante la diretta o anche in differita, visto che i video resteranno a vostra disposizione fino alla fine del corso. Dunque, come iscriversi è semplicissimo. In basso c'è il link in cui vi è indicato il programma dettagliato con tutti i giorni e le altre indicazioni. Però attenzione ai posti limitati. Che dire, speriamo di vederci presto in questo magnifico evento online. Ciao!